Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e anche su Facebook. Detto questo, andiamoci dentro col video. Eleanor Williams, detta Ellie, cresce a Walney Island. Si trova a largo della costa occidentale dell'Inghilterra. I suoi genitori si chiamano Alison Johnston e Peter Williams, anche se non vive con suo padre, ma con sua madre e il suo patrigno. Eleanor ha una sorella maggiore di nome Lucy e un fratello, ma il nome non è mai stato diffuso pubblicamente. La madre di Eleanor è conosciuta a livello locale come un pilastro della comunità. Lavora come consulente del lavoro ed è molto rispettata da coloro che la circondano. È una notte di novembre del 2017. Eleanor ha appena 16 anni e in quell'occasione partecipa a una festa in casa di Cameron Bibby. Beve alcol e fuma delle sostanze leggere quella notte e inizia a sentirsi male. Cameron e i suoi amici contattano sua madre e la sorella maggiore di Eleanor, che vanno a prenderla. La portano in ospedale per un controllo, ma una volta arrivata lì, Eleanor confida a sua madre e a sua sorella che Cameron, quella notte, l'ha aggredita intimamente. Ovviamente la sua famiglia si preoccupa moltissimo e il personale dell'ospedale interviene immediatamente, chiamando le autorità per denunciare l'accaduto. Eleanor successivamente si reca alla stazione di polizia per fare la sua dichiarazione. Afferma che Cameron l'aveva baciata con la forza, costringendola, poi l'aveva seguita fino al bagno e la osservava mentre faceva pipì e faceva commenti sulle sue parti intime. Dice poi che Cameron aveva iniziato a toccarla in modo inappropriato, si era poi seduto su di lei e aveva iniziato a toglierle i vestiti senza il suo consenso. Eleanor prosegue con il suo racconto, dicendo che aveva chiesto a Cameron di fermarsi, ma lui l'aveva minacciata. Se non fosse stata in silenzio, avrebbe detto al suo cane di attaccarla e poi l'avrebbe seppellita in giardino o l'avrebbe portata al mare per disfarsi del suo cadavere se non l'avesse obbedito. Quello che ha subito questa povera ragazza è orribile, quindi il 27 novembre 2017 Cameron viene arrestato e interrogato. Nega tutte le accuse, ma nonostante questo viene accusato di violenza intima. Nel gennaio del 2018 però Eleanor ritira le sue accuse, ma la tragica serie di eventi in cui la ragazza è stata vittima di abusi non si ferma qui. L'8 marzo 2019 ha ormai 18 anni. Esce durante la sera con un uomo di nome Jordan Trengrove e alcuni amici. Durante la notte Eleanor beve parecchio, è così ubriaca che le persone con lei decidono di riportarla a casa. Ma nei giorni successivi a quella notte Eleanor confida ad alcuni amici di essere stata portata da Jordan in un posto appartato. Lì il ragazzo lo aveva assalita intimamente prima di riportarla a casa. Il giorno successivo riceve diversi messaggi spregevoli da Jordan. Eleanor decide di fare uno screenshot per conservarli se ne avesse avuto bisogno, ma in quel momento non vuole denunciare alla polizia ciò che è accaduto. Questa situazione accade in molti casi di violenza intima. Uomini e donne non si recano dalla polizia perché sono troppo imbarazzati, si sentono sbagliati e sporchi e alla fine si incolpano da soli. Due mesi dopo, il 6 maggio 2019, Jordan va a casa di Eleanor e lei lo fa entrare. Il ragazzo però non vuole più andarsene. Lei prova a costringerla a uscire da casa sua, ma questa situazione causa una rissa tra i due. A quel punto Jordan tira fuori un coltellino tascabile e inizia a minacciarla. La costringe a spogliarsi in soggiorno prima di trascinarla con forza in bagno, tirandole i capelli. Stacca il soffiene della doccia e inizia a colpirla. Durante l'alterco entrambi finiscono a terra, così Jordan riprende amore e durante la violenza minaccia di ucciderla. Al termine di questo calvario Jordan se ne va, ma Eleanor è ferita. Ha grossi lividi su tutte le gambe ed è profondamente traumatizzata. Dopo questa ennesima violenza, Eleanor decide con riluttanza di chiamare la polizia. Va in stazione di polizia con gli screenshot, i quali dimostrano che Jordan le aveva inviato dei messaggi dicendo le cose orribili e dispregiative, le quali provano ciò che aveva fatto il 6 marzo. Eleanor mostra anche i lividi che ha subito a causa della terribile aggressione. E a seguito di questa dichiarazione, Jordan viene arrestato e interrogato. Ma come ha già fatto in precedenza, nega tutte le accuse. Nonostante questo, viene arrestato e accusato di aggressione intima e poi rilasciato su cauzione. Sembra che il suo rilascio peggiori solo le cose per Eleanor. Il 18 maggio 2019 chiama di nuovo la polizia per riferire che Jordan era tornato nel suo appartamento e aveva esercitato violenza su di lei ancora una volta. Spiega che dopo una serata fuori era arrivata a casa quando Jordan era entrato nell'appartamento attraverso una porta aperta. Aspettava che arrivasse un amico, ecco perché la porta era aperta. Eleanor aveva provato a spingerlo fuori di casa ma lui l'aveva colpita più volte sul viso e sul corpo e una volta che era caduta a terra, lui l'era assalito sopra e l'aveva nuovamente aggredita prima di scappare. Eleanor quindi trova nuovamente il coraggio di allertare i servizi di emergenza. Quando la polizia arriva sul posto la trovano priva di sensi e nuda sul pavimento. La polizia quindi arresta di nuovo Jordan, questa volta non viene rilasciato su cauzione ma passa 73 giorni in prigione come mortore intimo. Mentre Jordan è rinchiuso, il 18 giugno 2019 Eleanor parla agli investigatori di un'altra situazione orribile che ha vissuto in passato. Questa ragazza ha vissuto così tante esperienze negative e deve raccontare tutto ciò che ha passato agli investigatori. Ora si sente abbastanza a suo agio da rivelare ai detective ulteriori informazioni. Eleanor spiega di essere stata vittima di traffico sociale all'età di 12-13 anni e dice di sapere chi si è responsabile. È un uomo di nome Mohamed Ramzan. Ha 40 anni, è padre di 4 figli ed è un uomo d'affari locale oltre ad essere il leader di questo giro di traffico sociale. La ragazza spiega che quando aveva 12 anni Mohamed aveva fatto amicizia con lei e poco dopo l'aveva convinta ad avere un rapporto con lui. Questa situazione si era ripetuta più volte e in più occasioni Mohamed l'aveva convinta a dormire con lei e un altro uomo. Da questo momento in poi l'hanno spesso obbligata a salire nella loro macchina e portata in vari posti per avere rapporti intimi con vari uomini, tutti contro la sua volontà. Afferma che non era l'unica ragazza a subire queste atrocità e anche se tutta questa faccenda è iniziata con Mohamed altri uomini hanno iniziato a unirsi a loro. Ecco che ben presto si è formato un vero e proprio gruppo di uomini che abusi e trafficavano delle ragazze. Tutti gli atti intimi che era costretta a compiere venivano registrati e venduti per denaro. Le ragazze col tempo vengono trattate sempre peggio, se non facevano ciò che gli veniva detto le picchiavano. Eleanor racconta che una ragazza era stata picchiata così duramente che ha rischiato di morire. Un'altra ragazza era stata lanciata giù per le scale e picchiata. Le ragazze vengono anche costrette a vedere dei video in cui altre ragazze venivano aggredite intimamente in modo violento. Questa situazione è andata avanti per anni. Eleanor afferma che Mohammed l'aveva portata in viaggio ad Amsterdam, costringendola a lavorare in un bordello. Durante lo stesso viaggio prova anche a venderla per 25.000 dollari, ma fortunatamente il compratore ha deciso di non portare a termine l'accordo. Dopo il viaggio ad Amsterdam l'ha costretta a vivere in un camper per due settimane, girando per tutto il Regno Unito. Durante questo periodo di tempo è stata costretta ad assumere delle sostanze contro la sua volontà per renderla più facilmente sottomessa, di modo che più uomini potessero approfittarsi del suo corpo. Una delle ragazze vittima del traffico è rimasta incinta ed è stata costretta ad abortire in modo clandestino. Dopodiché Eleanor è stata portata a Ibiza per due settimane, dove di nuovo diversi uomini avevano pagato Mohammed per avere rapporti intimi non consensuali con lei. Dopo aver ascoltato tutti i dettagli di questa terribile storia, il detective che si sta occupando del suo caso è profondamente sconvolto. È convinto che Ellie sia stata vittima di un grave sfruttamento semplice e solo ora ha trovato il coraggio per raccontare la sua storia. Eleanor ha descritto diversi particolari, ha fornito resoconti dettagliati degli orrendi abusi che lei e alcune delle altre vittime hanno subito. Questo detective è molto preoccupato, questo gruppo di trafficanti è chiaramente molto pericoloso. Quindi dopo il racconto della ragazza i detective si riuniscono e danno il via a un'indagine su questo gruppo di uomini. Nel frattempo offrono a Eleanor di rimanere in una casa sicura oppure di entrare nella protezione testimoni. Eleanor però rifiuta di partecipare alla protezione testimoni, il che è comprensibile perché in questi casi si cambia identità e si deve iniziare da zero una vita completamente nuova, ma accetta di alloggiare in un hotel vicino alla stazione di polizia. Sarebbe stata costantemente sorvegliata e quindi si sente al sicuro. Le trovano perfino un lavoro in quell'hotel in modo da farle guadagnare dei soldi e vivere la sua vita senza nel frattempo dover lasciare l'albergo. Quando inizia a soggiornare in questo hotel alcune volte esce senza avvisare nessuno. La sua famiglia e gli ufficiali di polizia si preoccupano ogni volta tantissimo. Il 30 giugno 2019 Eleanor lascia l'hotel e va a Blackpool prendendo un treno. Una volta arrivata prende una camera d'hotel ma non risponde ai messaggi che le invia la polizia o la sua famiglia. Tutti sono molto preoccupati per lei e finalmente dopo diversi ore la polizia riesce a rintracciarla. Le chiedono un incontro per capire cosa fosse successo. Eleanor dice ai detective che i trafficanti le avevano trovata in quell'hotel e le avevano ordinato di andare a Blackpool. La ragazza esegue l'ordine e poi incontra Mohammed che ha minacciato di ucciderla se non avesse obbedito. Eleanor così accetta, cambia per quattro volte hotel con lui viaggiando in macchina. In ogni hotel in cui ha messo piede è stata brutalmente aggredita da più uomini. Poi come sappiamo gli agenti di polizia l'hanno rintracciata e sono riusciti a riportarla indietro all'hotel in sicurezza. Poco più di due settimane dopo, il 18 luglio, Eleanor lascia nuovamente l'hotel e prende un treno per Leeds. Vuole passare un po' di tempo lì prima di tornare a Burrow in Furness. Anche in questo caso tutti si preoccupano moltissimo per lei, ma suo fratello la vede camminare per strada nella zona. Di conseguenza la riporta lui a casa e chiama la polizia. Quando i detective parlano con Eleanor, lei spiega che il 17 luglio un uomo di nome Salsa, che è uno dei trafficanti, l'ha raggiunta nel suo hotel, l'ha schiaffeggiata in faccia e l'ha trattenuta contro un muro prendendola per il collo. Gli dice che gli ha fatto perdere dei soldi, quindi deve uscire e guadagnare 10.000 sterline. Le ordina di dirigersi a Leeds e lei lo ascolta. Una volta arrivata lì, Eleanor viene portata in una casa dove afferma di aver avuto rapporti non consensuali con due uomini. In quella casa ci sono altre donne, vittime anche loro del traffico. Dopodiché viene portata in alcune delle case e viene obbligata ad avere rapporti con un totale di sei uomini. In una delle case in cui è stata, ha notato un passaporto sul tavolo, insieme a un biglietto aereo per il Bangladesh. Quindi è scappata. Non voleva dare a questi uomini la possibilità di portarla fuori dal paese. Dopo la sua fuga, i trafficanti l'hanno contattata di nuovo e le hanno detto di andare a Preston, cosa che ha fatto. Una volta lì, ha incontrato un altro trafficante che l'ha costretta a fare uso di sostanze. Poi quest'uomo ha incontrato due uomini asiatici in un parco, i quali gli hanno dato dei soldi per fare violenza su Eleanor. Così uno degli uomini l'ha portata in un vicolo e l'ha aggredita lì. Dopo la violenza, le viene permesso di tornare a Barrow in Furness, a casa sua. Una volta arrivata, l'uomo che si fa chiamare Salsa la schiaffeggia e l'aggredisce intimamente di nuovo. A questo punto, Eleanor è tornata a casa ed è stata accolta dalla polizia. Eleanor è ferita ed è appena cosciente, quindi viene portata in ospedale. Dopodiché viene deciso che sarebbe stato meglio se Eleanor fosse tornata a casa, a Walney Island. Lì c'è la sua famiglia ed è al sicuro. Tuttavia, le aggressioni intime non si fermano. Il 18 maggio del 2020, Eleanor esce di casa ma non torna per il coprifuoco. Quindi sua madre la denuncia immediatamente come scomparsa. Si scopre che la ragazza voleva prendere un bus, ma uno dei suoi trafficanti le ha dato un passaggio e l'ha portata in una casa a Barrow in Furness. Ci sono dieci uomini in quella casa. La maggior parte di loro l'ha aggredita e l'ha picchiata. Viene anche colpita in faccia con un martello. Dopodiché uno degli uomini l'ha riaccompagnata a Walney Island. Viene ritrovata dalla polizia in mezzo a un campo. Quando la trovano, Eleanor è piena di ferite e libidi su tutto il viso, le gambe e l'addome. Ha un occhio gonfio e il mignolo di una delle due mani è parzialmente reciso. Il 20 maggio 2020, Eleanor si collega a Facebook e pubblica le foto delle ferite che aveva subito per mano dei suoi aggressori. In quel post afferma che questa è una delle cose più difficili che abbia mai dovuto scrivere. Spiega di essere stata caricata sul retro di un'auto e portata in una casa dove è stata costretta ad avere rapporti non consensuali contro uomini asiatici. Poi è stata picchiata perché era in debito con questi uomini per non aver partecipato a dei festini hot per diverse settimane. Spiega anche che questi uomini hanno provato a tagliarle un dito per punirla. Poi l'hanno scaricata in mezzo a un campo. In questo post spiega che è stata vittima di una tratta sessuale per diversi anni. È stata portata in diverse zone di Londra da una rete di trafficanti composta per lo più da asiatici e pakistani. Sono coinvolti in questi giri loschi anche alcuni imprenditori locali. Conclude dicendo che i genitori devono essere attenti e vigilare sulla sicurezza dei loro figli. Non vuole che ciò che è successo a lei possa succedere a qualcun altro. Ovviamente questo post sciocca internet. Viene visto da più di centomila persone. Le ferite riportate da Eleanor sono raccapriccianti. Questo porta le persone a creare un gruppo Facebook chiamato Giustizia per Ellie. Realizzano magliette e poster e scendono in strada per protestare in nome della ragazza. La gente è arrabbiata dal fatto che una ragazza così giovane abbia vissuto una cosa del genere. È orribile e sembra che a nessuno importi davvero. La polizia non sta facendo nulla e ci sono delle persone in quella comunità che torturano e abusano di giovani ragazze. Le persone inoltre sono spaventate per la propria sicurezza. Molti affermano che un imprenditore pakistano è coinvolto. Così vengono lanciati dei sassi alle finestre di diversi ristoranti indiani della zona. Un imprenditore locale afferma di aver perso più del 90% dei suoi clienti dopo che le persone hanno affermato che la sua attività è coinvolta nel traffico. Altri imprenditori ricevono moltissime minacce di morte. In particolare Mohamed che è stato denunciato per aver preso parte al giro di traffico. I suoi figli vengono molestati e la sua famiglia è ormai distrutta. Ma sorge una domanda. Perché nonostante le storie e le accuse di Eleanor la situazione non migliora? Quello che vi ho raccontato è avvenuto nel corso di diversi anni e anche quando Eleanor trova il coraggio di denunciare sembra che continui a subire abusi e sembra che nessuno stia realmente facendo qualcosa a riguardo. La polizia in realtà si rende conto che tutto ciò che Eleanor ha denunciato sono bugie. Nessuna delle sue storie è vera. Il che è pazzesco perché Eleanor ha mostrato delle ferite se le era procurate da sola? Ecco perché la polizia inizialmente non sapeva cosa pensare. Si sono trovati davanti una ragazza che raccontava di cose orrende e violente. Hanno visto le sue ferite e quanto stava male. Non riuscivano a pensare che era stata capace di inventarsi tutto questo. specialmente se pensiamo a quanto fossero dettagliate le sue storie. Credo sia per questo motivo che la polizia ha impiegato così tanto tempo per rendersi conto di questo. A questo punto parliamo dell'indagine della polizia. La prima accusa avvenuta nel 2017 coinvolgeva un uomo chiamato Cameron Bibi. Non ci sono abbastanza prove per supportare o negare le affermazioni di Eleanor. Infatti non era andata avanti con la denuncia, ritirando le sue accuse. Ma con la seconda, la terza e la quarta violenza intima avvenute il 9 marzo, il 6 maggio e il 18 maggio 2019 la polizia ha trovato delle prove che dimostrano che Jordan Trengrove non è neanche mai stato nel suo appartamento quando lei aveva affermato più volte il contrario. Si è procurata da sola dei lividi per sostenere la sua versione dei fatti. Aveva mostrato agli agenti dei messaggi che si erano scambiati i quali dimostravano che la sua storia era reale. Ma quando la polizia approfondisce la situazione, scopre che in realtà era lei a inviare quei messaggi a se stessa. Aveva utilizzato degli account diversi per inviarsi dei messaggi e rispondersi. Tutti i messaggi inviati sono collegati all'indirizzo IP della rete wifi di casa sua. E di sicuro non si stava scambiando dei messaggi con Jordan mentre lui era a casa sua. non avrebbe senso. Ma soprattutto Jordan non era a casa di Eleanor perché non era in quella zona in quel periodo. La polizia quindi è sicura che Jordan non avesse mai aggredito Eleanor intimamente. Quando la ragazza ha raccontato la storia del traffico, ha fornito l'elenco di tutte le ragazze che erano vittime della tratta e gli uomini coinvolti. Aveva descrizioni dettagliate di ogni singola persona coinvolta, nomi, descrizione fisica e qual era il ruolo di ogni persona. Aveva fornito dei resoconti incredibilmente vividi di ciò che era accaduto a ciascuna di queste donne. Quando però gli investigatori interrogano le donne che Ellie aveva elencato, ognuna di loro ha negato di essere mai stata vittima di una tratta. E a dirla tutta alcune donne erano sconvolte dal fatto che qualcuno stesse usando il loro nome per inventare delle cose del genere. Eleanor ha anche affermato di essere stata vittima di una tratta ad Amsterdam. Si è scoperto che effettivamente ha visitato Amsterdam, ma era lì con sua sorella e il suo compagno per una vacanza. Non c'è mai stato un momento in cui Eleanor si è allontanata da sua sorella abbastanza a lungo da essere vittima di una tratta. Davanti a queste prove Eleanor ha poi affermato che Mohammed l'ha obbligata ad avere rapporti intimi con degli uomini, mentre era in viaggio con un'amica di nome Lucy. Anche questa ragazza dice il detective che è impossibile se è successa una cosa del genere. Erano sempre insieme. Come se questo già non bastasse, le telecamere a circuito chiuso confermano che durante il periodo in cui Eleanor è stata ad Amsterdam, Mohammed è stato visto in Inghilterra. Quindi a meno che non avesse il dono dell'ubiquità, non poteva essere anche ad Amsterdam. A seguito delle prime accuse di Eleanor, l'uomo è stato arrestato e interrogato. Ma dopo diverse indagini approfondite, la polizia scopre che Mohammed non aveva neanche mai incontrato Eleanor. Non era mai stato solo con lei e non l'aveva mai aggredita intimamente, dato che non era Blackpool. Ma neanche in nessun altro posto da lei indicato ogni volta che era costretta, a detta sua, a lasciare l'hotel che la polizia le aveva fornito. Emerge anche che la ragazza aveva iniziato a inviare dei messaggi a diverse persone su Snapchat, fino a parlare di rapporti intimi. Ma lei aveva cambiato il nome di queste persone, in modo che corrispondessero ai nomi delle persone che aveva indicato come coinvolte nel giro di traffico. Alcune persone che ha indicato avevano dei nomi reali, erano persone che conosceva superficialmente. Altri nomi che aveva fornito erano completamente inventati. È arrivata addirittura ad acquistare due telefoni diversi, in modo da poter inviare messaggi prima da un telefono e poi da un altro, per creare conversazioni in cui voleva far sembrare che alcuni trafficanti o alcune delle donne vittime della tratta la stessero contattando. In un'altra occasione si era scritta da sola una lettera falsa, la firmata con un nome falso, inviandosela da sola. Dopo aver iniziato a soggiornare all'hotel che la polizia le aveva fornito, ogni volta che usciva e diceva che era stata costretta dai trafficanti, mentiva. Dopo le aggressioni che aveva subito a Blackpool, la polizia l'aveva portata in giro per la città. Volevano che lei spiegasse dove questi uomini l'avevano portata. Eleanor però non era riuscita a indicare nessun posto dove era stata portata, quando aveva affermato di essere stata aggredita intimamente. Gli agenti sono anche riusciti a risalire a dei filmati fatti da delle telecamere a circuito chiuso che dimostravano esattamente quello che aveva fatto quel giorno. Eleanor ha preso il treno per Blackpool, da sola. Poi è stata vista in un video mentre camminava da sola e a piedi. È entrata in un negozio, ha comprato qualcosa da mangiare ed è tornata al suo hotel. Il giorno successivo si è svegliata e ha passato la sua giornata passeggiando in giro per la città. Quando si è trovata di fronte queste prove, ha detto agli agenti che i suoi trafficanti l'hanno costretta a inventare la storia che aveva raccontato alla polizia. In pratica l'hanno costretta a inventare una storia su degli abusi che avrebbe subito in modo che la polizia si sentisse male per lei. Tutto questo, converrete con me, non ha alcun senso. Anche la storia del 18 luglio viene completamente screditata dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso che la mostrano mentre cammina da sola. Ha poi incontrato un uomo con cui usciva e, secondo i messaggi, aveva poi avuto un rapporto consensuale con lui. Dopodiché avevano programmato di incontrarsi di nuovo per un altro appuntamento. Eleanor poi è tornata a Barrow in Furness ed era incasata. Il filmato delle telecamere di sorveglianza mentre tornava a casa dopo aver preso il treno la mostrano illesa. Non aveva ferite visibili e camminava bene. Ma, 20 minuti dopo, quando la polizia viene chiamata a casa sua, Eleanor sembra sotto effetto di qualche sostanza. Ha, inoltre, lividi e abrasioni su tutto il corpo e il viso. Nel luglio del 2019 la polizia finalmente si rende conto che niente di ciò che la ragazza aveva detto è vero. Dopo che afferma di essere stata costretta a seguire un uomo di nome Salsa a Leeds, la polizia inizia a insospettirsi. I detective la portano proprio lì in auto, cercando di capire dove fosse stata portata esattamente da quest'uomo di nome Salsa. Ma Eleanor non riesce a fornire alcuna informazione, né a indicare dove fosse stata realmente. Questo gli ha spinti a dare un'occhiata ai filmati delle telecamere a circuito chiuso. Nel maggio del 2020 Eleanor è stata arrestata e accusata di aver rilasciato false dichiarazioni alla polizia. Era stata rilasciata su cauzione ed era tornata a casa dalla sua famiglia. È a quel punto che ha affermato di essere stata portata in una casa e aggredita intimamente da tre uomini asiatici. Alla fine era stata trovata nuda e ferita in un campo. Così aveva deciso di pubblicare quel post su Facebook. Nessuno online sapeva che era nel mezzo di un'indagine per false accuse. Quindi tutte quelle persone che uscivano per strada a protestare per questa ragazza non sapevano che era indagata anche per quelle affermazioni che aveva fatto online. Anche la storia di questi tre uomini asiatici è completamente falsa ed è difficile da credere. Le sue ferite erano reali, li aveva davvero addosso. Ma quando la polizia l'aveva trovata in quel campo era anche riuscita a individuare un martello nascosto contro una recinzione vicino al punto in cui era stata trovata. Se ricordate Eleanor aveva effettivamente detto che era stata colpita in faccia con un martello. Su quel martello la polizia ha rilevato il suo DNA e delle tracce del suo sangue. Non viene trovata nessun'altra traccia di DNA. La polizia è riuscita anche a risalire al luogo in cui è stato acquistato ovvero un tesco a Barrow in Furness. La polizia si è recata a lì scoprendo che lo stesso martello era stato acquistato utilizzando una carta di debito proprio qualche giorno prima dell'aggressione di Eleanor avvenuta all'11 maggio. Questo porta gli investigatori a controllare i filmati delle telecamere del negozio. Ed ecco che vedono Eleanor che acquista proprio quel martello. Durante la sua ultima degenza in ospedale nel maggio del 2020 quando aveva raccontato di essere stata aggredita con il martello viene esaminata da un patologo forense il quale afferma che le uniche aree del suo corpo ferite erano zone che poteva raggiungere anche da sola. Questa ragazza si è procurata da sola delle ferite orribili. La polizia quindi arresta Eleanor e l'accusa di otto capi di imputazione per aver ostacolato il corso della giustizia. Rilasciano nel frattempo Jordan Trengrove che ha passato 73 giorni in carcere da innocente a causa delle accuse infondate che Eleanor aveva mosso contro di lui. Mentre Eleanor era in prigione in attesa del processo scrive a sua sorella Lucy chiedendole se poteva raccontare ai pubblici ministeri che un martello era stato trovato nella sua camera da letto. In pratica stava cercando di convincere sua sorella a mentire agli agenti per far sembrare la sua storia più credibile. A causa di ciò Eleanor riceve un altro capo d'accusa per aver ostacolato il corso della giustizia. Tuttavia quando è stata arrestata la prima volta i sostenitori di Eleanor sono andati su tutte le furie. Organizzano sempre più manifestazioni all'interno delle quali si verificano numerosi atti di vandalismo contro delle proprietà gestite da asiatici. Ma quando inizia il suo processo nell'ottobre del 2022 la verità sta per emergere. L'accusa nel presentare il suo caso la definisce una bugiarda seriale affermando che tutti i suoi resoconti erano invenzioni e bugie. Non c'erano prove a sostegno di nessuna delle sue affermazioni anzi le prove erano tutte contro di lei. Parlano dei messaggi falsi che si era inviata lei stessa su Snapchat. Jordan Trengrove aveva un alibi per ogni sera in cui Eleanor aveva affermato che si era presentato a casa sua così come per Mohamed. Lui non era ad Amsterdam. I registri di viaggio confermano che non era mai stata a Ibiza. Alcuni trafficanti e alcune vittime che aveva nominato neanche esistevano. Ogni volta che affermava di venire trafficata i filmati delle telecamere a circuito chiuso dimostravano che era in giro da sola. Tuttavia durante il processo Eleanor nega completamente tutte le accuse e continua a portare avanti le sue affermazioni dicendo che era stata aggredita intimamente ed era una vittima della tratta. Ogni volta che le sue storie venivano screditate come impossibili Eleanor affermava che i suoi trafficanti l'avevano obbligata a fare quelle affermazioni. Ha affermato che non si era mai colpita da sola con un martello perché parole sue non è mica psicopatica. Ma alla fine le prove contro di lei si sono rivelate tutte schiaccianti e mostrano un'immagine molto chiara di una giovane donna che mente. Mente in continuazione e spudoratamente. Durante il processo non mostra alcun rimorso e non dà alcuna spiegazione per il suo comportamento. La dottoressa Lucy Beacon, una psichiatra forense che ha valutato Eleanor Williams più volte nel 2019, afferma che la ragazza soffre di disturbo da stress post-traumatico complesso. Afferma che ha avuto molte difficoltà durante l'infanzia, tanto da subire un trauma. Ma non viene chiarito che tipo di trauma né che tipo di difficoltà ha dovuto affrontare. Il giudice deve considerare tutte le difficoltà che le accuse di Eleanor hanno causato alle vittime in questo caso. La giuria conclude che Eleanor Williams è colpevole di tutti gli otto capi di imputazione. Si dichiara colpevole solo per il nono capo di imputazione, per aver scritto a sua sorella la lettera in cui le chiedeva di affermare il falso. Jordan riceve tantissime minacce di morte, la sua casa viene vandalizzata e ora è anche padre. Dovete sapere che i servizi di protezione per l'infanzia ricevono chiamate anonime in cui affermano che Jordan non è idoneo a fare il padre. Come immaginabile, purtroppo, cade in una profonda depressione e tenta persino di togliersi la vita. Fortunatamente è ancora vivo, ma deve assumere ogni giorno degli antidepressivi. La vita di Mohamed Rahman è completamente a pezzi. I suoi figli e sua moglie sono stati immolettati, la sua casa vandalizzata e gli hanno inviato molte minacce di morte. Molti gli hanno detto che non è il benvenuto nella comunità. Anche lui prova a togliersi la vita, ma fortunatamente riesce a sopravvivere. I suoi figli gli dicono che non vogliono essere conosciuti come i figli di un c***o e uno di loro prova a togliersi la vita, anche in questo caso fortunatamente senza riuscirci. Casi come questo hanno un forte impatto negativo sulle vere vittime, perché purtroppo esistono donne che vengono trafficate davvero semplicemente. Inoltre, le donne che hanno subito veramente una violenza talvolta non vengono credute. Questo è anche a causa di storie, come quella di Eleanor. Le sue bugie hanno ferito tantissime donne che hanno davvero subito una violenza intima. Eleanor Williams viene condannata a otto anni e sei mesi. Gli uomini accusati falsamente in questo caso sono contenti che Eleanor sia in prigione, ma non pensano che otto anni siano sufficienti. Hanno sofferto tantissimo a causa di ciò che si è inventato a Ellie, ma anche perché continua a mentire nonostante la condanna. Continua a dire che tutto ciò che ha detto è vero e non mostra alcun rimorso. Jordan crede che Eleanor dovrebbe stare dietro le sbarre per tutta la vita, mentre gli investigatori che indagano su questo caso affermano che se non fosse rimasta in prigione, credono che il suo comportamento non si sarebbe fermato e avrebbe potuto aggravarsi ulteriormente. Non c'è mai stata alcuna spiegazione per il comportamento di Eleanor. I membri della sua famiglia, tra cui la madre e il padre di Lucy, hanno tutti espresso apertamente il loro sostegno alla ragazza. Anche loro affermano che non sanno perché abbia inventato tutte queste bugie così elaborate, ma affermano che non credono che tutte le storie siano inventate. Ciegano che ha subito degli abusi nell'infanzia e quando ha provato a raccontare la sua storia non è stata creduta. Questo potrebbe averla portata a raccontare queste bugie. Sua madre crede che le storie sulla tratta siano vere perché non pensa che Eleanor si fosse fatta così tanto male da sola. Credono che alcune storie che ha raccontato non siano vere, ma non pensano che le ferite siano note inflitte. Sua sorella Lucy infatti afferma che non c'è assolutamente nessuna possibilità che le sue ferite siano state autoinflitte. Lei le ha viste, sa quanto erano gravi e non è possibile che qualsiasi essere umano riesca a farsi del male da solo in un modo così tanto grave. Tutte le storie che Eleanor ha raccontato e il motivo per cui ha mentito sono a mio avviso da ricercare in qualche evento passato. Probabilmente non è stata creduta anche se non è chiaro il motivo. Presumo che ci sia una sorta di difficoltà psicologica, nessuna persona si spingerebbe fino a dove si è spinta lei. Sono convinta che tutte le storie di cui abbiamo parlato siano state inventate perché ci sono le prove. Con il suo comportamento questa donna, Eleanor, ha distrutto le vite di molte persone. E il fatto che abbia incolpato degli uomini che conosceva appena o che neanche aveva mai incontrato mi confonde. Potrei capire razionalmente se avessi incolpato qualche suo ex ragazzo, che l'aveva lasciata o che ancora l'aveva illusa. Si dice che abbia fatto delle ricerche su Google, scegliendo delle persone a caso che vivevano nella sua stessa zona. È in questo modo che ha scelto alcuni degli uomini da incolpare. C'è però una domanda che mi rimbalza nel cervello da giorni. Perché ha fatto questo? Non conoscere il movente rende questa storia davvero assurda. Non provava rancore per gli uomini che ha incolpato. Quindi, perché rovinare la vita di perfetti sconosciuti? Perché ha scelto Mohammed per portare avanti la storia del traffico? È una bugia gigantesca e difficile da gestire. Vi ricordo inoltre che ha indicato delle donne affermando che anche loro erano vittime, esattamente come lei. Ma una volta interrogate dalla polizia, queste donne non solo hanno negato di essere vittime di una cosa del genere, ma si sono allarmate. Perché qualcuna stava usando i loro nomi per creare delle storie false molto gravi. Inoltre le sue bugie sono andate avanti per anni. Vorrei anche sapere perché ha accusato degli uomini asiatici di averla aggredita. Personalmente penso che ci sia una buona dose di razzismo in questa accusa. Pensava forse che incolpare le minoranze avrebbe reso le sue storie più credibili? O forse mal sopportava gli asiatici? Resta il fatto che ad oggi non abbiamo alcuna spiegazione sul motivo per cui Eleanor si sia inventata queste orribili storie e temo che non scopriremo mai la verità. Sono convinta che Eleanor vivrà il resto della sua vita sostenendo che quelle storie siano vere. Non penso ammetterà mai pubblicamente di aver mentito. Ma a questo punto sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Perché secondo voi Eleanor ha mentito? Perché ha deciso di incolpare quelle persone che tra l'altro neanche conosceva? Cosa potrebbe aver vissuto nel passato da portarla a raccontare delle bugie di tale portata? Ma soprattutto cosa ci avrebbe guadagnato? L'ha fatto per ottenere qualcosa? E questo ci porta alla fine di questo video e quindi di questo caso. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso perché io l'ho trovato assurdo. Davvero assurdo. E fatemi sapere se lo conoscevate. Onestamente mi lascia abbastanza stupita che una ragazza arrivi a raccontare delle bugie tanto gravi, delle bugie tanto grandi. Era impossibile non essere scoperta dalla polizia quando si raccontano delle cose così pesanti e anche a tratti irreali. Quindi sono molto curiosa di sapere quale sia la vostra opinione. Scrivetemi tutto quello che volete nei commenti, le vostre sensazioni, le vostre emozioni, cosa vi ha fatto provare questo caso. E nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Basta che non facciate nulla di criminale.